Hi mates! Ciao! Eccoci in questo nostro nuovo video in cui vorremmo parlarvi di questo appunto articolo 13 che potrebbe rischiare anche di far chiudere YouTube stesso questa direttiva serve per solo guardare gli artisti nell'Unione Europea quindi tutto quello che è protetto da copyright potrebbe essere bloccato su YouTube e non solo, anche su Instagram, Snapchat e altri social come Facebook eccetera eccetera questo potrebbe essere un gran problema per tutti i creators dell'Unione Europea e non solo anche per YouTube perché dovrà essere responsabile di tutti i contenuti protetti da copyright presenti sulla loro piattaforma e noi con questo piccolo video vorremmo salvaguardare YouTube da questa direttiva quindi adesso tocca a voi divulgare la vostra parola lanciando anche l'hashtag per far sì che questa direttiva venga modificata firmate la petizione che trovate sotto in descrizione e in più troverete anche il video di YouTube stesso che spiega in modo più esaustivo questo articolo 13 mi raccomando condividete questo video perché è davvero importante lasciate un bel mi piace e commentate ci siamo alla prossima e... Signori Internet! Si!